L'era quaternaria. Anche detta l'era dell'uomo. Da due milioni di anni fa a oggi. In questo periodo compare il genere uomo. Che poi si evolve negli ominidi. L'era quaternaria è divisa in preistoria, da due milioni di anni fa all'invenzione della scrittura. Storia, da 5.000 anni fa a oggi. La preistoria a sua volta è divisa in due epoche. Il paleolitico, da due milioni di anni fa a circa 10.000 anni fa. Cioè fino alla scoperta dell'agricoltura. Detta anche età della pietra nuova. Il neolitico, da 10.000 a 5.000 anni. Detta anche età della pietra nuova.